Termina con uno spettacolare 2-2, Gravina Nocerina, lo stadio vicino della città pugliese. I Molossi, dove esso in stato di svantaggio prima di da zero, la dibartono addirittura portandosi sul 2-1. Ma nel finale, un calciatore del Gravina si inventa il gol della domenica pereggiando i conti. Mister Espositori, la fiducia, Scolavino tre pali e schiera in difesa e rientrante Campanella insieme a Ciampi e Laledanna. Il centrocampo è composto da De Siena, Mincione, Carrotta, l'esperto Giannini e Pisani, a supporto di Dinamite Liurni e di Pasquale Messina. Nel primo tempo partono forti i Molossi, col giovane Pasquale Messina. Buona azione insistita sull'out di destra per il ragazzo, che si accentra e prova a calciare. La conclusione però non è delle migliori e la palla termina fuori. Passano dieci minuti, al sedicesimo ci prova il Gravina col temibile Santoro. Veloce scambio sulla tre quarti e l'attaccante Giallo Blei prova a calciare dalla distanza. La palla però termina alta sopra la traversa. Al diciottesimo è Carrotta a provarci dal limite per la Nocerina. Il tiro è flebile, nonché il centrale. Nessun problema per l'Oliva a bloccare. I Murgiani però si rendono pericolosissimi al ventitresimo, quando Santoro, con un cross al bacio dalla sinistra, pesca Dentamaro al centro dell'aria, il quale conclude centralmente di piatto. E attento Cesare Scolavino a neutralizzare la conclusione del numero due giallo-blu. Al trentaquattresimo continua l'assedio del Gravina. Punizione da considerevole distanza abbattuta da Alvarez, che la indirizza direttamente in porta. E bravo Scolavino che neutralizza la conclusione. Dopodiché la gara si addormenta e al quarantasesimo minuto, dopo uno di extra time, l'arbitro manda le squadre a prendere un tè caldo. Nei secondi 45 minuti la Nocerina prova subito a suonare la carica, con Lorenzo Liurni, il quale, penetrato in aria, calcia, ma l'Oliva para senza problemi. Al quarantottesimo, poi, è provvidenziale Cesare Scolavino per la Nocerina, che chiude per ben due volte sugli avanti del Gravina, evitando così il peggio per i Molossi. Il Gravina insiste ed al cinquantasesimo con Chiaradia va vicino al gol. Infatti l'attaccante Murgiano lascia partire un tiro da fuori aria ben angolato, il quale viene parato da Scolavino che si rifugge in angolo. È solo il preludio al gol del vantaggio del giallo-blu. Infatti, dal successivo corner, Scolavino esce male e lo stesso Chiaradia insacca di testa facile facile. 1-0 per il Gravina. Nocerina, che dopo il gol prova a buttarsi in avanti e dopo una conclusione sterile di Campanella, alla mezz'ora dagli sviluppi di un corner, ecco che al settantanovesimo arriva l'esperato pareggio. Punizione dalla sinistra, palla indirizzata verso Lava. L'attaccante toscano sponda per Ghetano Iannini, che di testa la insacca e fa 1-1. Si tratta della prima rete in questa stagione per Ghetano Iannini, che ricordiamo ritorna in squadra dopo il campionato 2009-2010. Nemmeno il tempo di mettere la palla al centro ed ecco che la Nocerina si trova clamorosamente in vantaggio. Ancora palla dalla sinistra e ancora Molossi in rete, questa volta con Raffaele Poziello. Seconda rete in campionato per l'attaccante napoletano, dopo il gol segnato contro l'Agropoli. Il Gravina però non ci sta e all'ottantacinquesimo trova il pareggio. Stiletti si inventa il gol della domenica e lascia partire un bollide da oltre 30 metri, che si insacca alle spalle di Scolavino. Il risultato è fissato sul 2-2. Dopo la prudezza di Stiletti non c'è nulla più da segnalare. Infatti, dopo 4 minuti di extra time, l'arbitro manda le squadre sotto la doccia. Un buon pareggio per i Molossi, vista come si era messa la gara, riuscendo a ribaltare un risultato che sembrava già indirizzato verso l'ennesima sconfitta per i rossoneri. Adesso sabato, gara delicatissima ed importante contro il Taranto.